Il Ministro della Salute risponde ai sindaci delle Madonie che protestano contro la chiusura del punto nascita di Petralia. Lorenzini dice che non si possono ignorare le condizioni di sicurezza solo per partorire in una struttura più vicina. Poi chiama in causa Regione e Asp invitandoli a intervenire. Il destino di riscossione Sicilia senza i fondi per il 2016 dietro lo scontro tra il suo presidente Fiumefreddo e 61 deputati dell'Ars che sarebbero morosi. Il Parlamento dovrà in ogni caso trovare una soluzione nelle prossime settimane. 32 anni fa la mafia uccideva Catania il giornalista e scrittore Giuseppe Fava, diverse le manifestazioni per ricordarlo e per continuare il suo impegno per un'informazione libera da ogni condizionamento. Il Palermo si affida ad Alberto Girardino per la sfida di domani contro la Fiorentina alle 15 al Barbera. In attesa che arrivino dal mercato i riforsi per Ballardini parla il centrocampista Iaialo. A Trapani torna Nizzetto, turno infrasettimanale nel basket, il CONI premia le benemerenze. Buon pomeriggio e benvenuti alla redazione del TG Med. Queste sono solo le principali notizie di cui ci occuperemo nel corso del telegiornale. Parleremo di molto altro, ad esempio delle minacce arrivate al sindaco di Agrigento Calogero Firetto. E ancora vedremo perché da questa mattina un tratto della linea ferroviaria Messina-Palermo è interrotto. Di tutto questo e molto altro parleremo però dopo la pausa pubblicitaria. La regione deve migliorare le strutture degli ospedali siciliani. Il ministro alla salute Lorenzin risponde in questo modo ai sindaci delle Madonie che nelle ultime ore l'avevano scritto per chiedere di ripensare la decisione di chiudere il punto nascita di Petralia. Il ministro continua a insistere sulla poca, scarsa sicurezza di queste strutture ma i sindaci non ci stanno. Sentiamo. Nel 2010 la regione aveva firmato un accordo per migliorare i punti nascita in Sicilia ma nell'arco di cinque anni cosa è stato fatto? Nulla, secondo il ministro della salute Beatrice Lorenzin che nel rispondere ai sindaci chiama in causa direttamente la regione. Da giorni ormai i nuovi amministratori dei comuni delle Madonie protestano contro la chiusura scattata dal primo gennaio del punto nascita di Petralia Sottana. Si tratta di una delle strutture chiuse perché al di sotto dei 500 parti all'anno insieme a Santo Stefano di Quisquina, Mussomeli e Liperi. Una deroga era stata concessa a Bronte e a Licata ma al momento mancherebbero le condizioni perché possano proseguire le attività. Il ministro insiste sulla questione sicurezza ricordando che nel punto nascita di Petralia manca una guardia attiva 24 ore su 24 di ginecologi, pediatri, neonatologi e ostetriche. Mancano le garanzie di sicurezza, insomma, sottolinea la Lorenzin, facendo riferimento a un giudizio simile dato anche dall'ASP di Palermo. Riassumendo, il fattore di rischio non può essere ignorato per il solo fatto di poter partorire in una struttura vicina. Altrettanto importante viene considerato il dato fornito dalla stessa regione sul numero di nascite nell'ospedale di Petralia. Un numero ridotto da interpretare, secondo la Lorenzin, come la scelta delle future madri di andare a partorire in altri ospedali. In conclusione, il ministro chiama in causa la regione. Lavori per adeguare la rete sanitaria. I siciliani che pagano tasse elevatissime per ottenere il servizio meritano una migliore qualità del sistema, conclude il ministro. L'assessore alla sanità, Gucciardi, intanto avvise dirigenti degli ospedali. Non tollererò situazioni di insicurezza né negli ospedali piccoli né in quelli grandi. Chi resta aperto deve garantire personale, strutture e dotazioni tecnologiche adeguate. Questa è dunque la nota del ministro alla quale hanno risposto a loro volta i sindaci che invece parlano di un gioco a scarica barile sulla regione siciliana e sull'ASP. A loro giudizio infatti la nota del ministro non affronta la questione vera, ritardi in adeguatezza della regione dell'ASP. Dicono i sindaci che non possono costituire per il ministro Lorenzin pretesto per cancellare i diritti di cittadinanza di chi vive, che adesso dovrà affrontare trasferimenti di oltre 75 chilometri a Termini Merese. Prosegue lo scontro tra il presidente di riscossione Sicilia, Antonio Fumefreddo, i deputati dell'ARS chiamati in causa in una lista di morosi pronta per la magistratura e già finita sui giornali. Dietro questo scontro però c'è in realtà il destino di una società che a quanto pare affonda sotto il peso di debiti e consulenze, come ci spiega Ambra Drago. Da un lato il presidente di riscossione Sicilia, pronta a consegnare la lista di 61 deputati morosi nei confronti della società da lui guidata, dall'altro gli inquilini di Palazzo dei Normanni, che in queste ore tentano di difendersi da quella che è stata da molti definita come una ritorsione politica, dopo l'affossamento della norma che prevedeva la concessione ai 2 milioni e mezzo e fini alla ricapitolarizzazione della partecipata. All'interno di questo scontro un dato è certo, ovvero che riscossione Sicilia, che si occupa della gestione dei tributi nell'isola, rischia di chiudere i battenti. A pagarne il prezzo più alto sarebbero i 700 dipendenti insieme a una miriade di avvocati e consulenti. La società è stata al 2008 soggetta ad amministrazioni spericolate. Tra le diverse scelte è quella che la veda ancora a pagare una rata da oltre 7 milioni per un mutuo acceso con la Monte dei Paschi. Il risultato, ha dichiarato fiume freddo, è che dal 2008 a oggi solo di interessi la società ha pagato a MPS 60 milioni e proprio su questa vicenda, continuato, è stato presentato un esposto in procura. Inoltre, tra il 2011 e il 2015, la società ha perso oltre 50 milioni di euro e a fronte ai 3 miliardi da recuperare le diverse cause scritte a ruolo, avrebbe incassato solo 500 milioni all'anno. Secondo una stima fatta alla Corte dei Conti, riscossione Sicilia incasterebbe quindi solo il 5% dei ruoli. Il tutto andrebbe incidere sul capitale sociale, che ormai sarebbe ridotto all'osso. Ecco che dietro la polemica dei deputati morosi, destinatari ai pignoramenti, sarebbero solo 5, ha precisato il segretario generale dell'Ars Scimè e la partita dei fondi, non stanziati dall'Ars, ma su questo il Parlamento regionale dovrà trovare in ogni caso una soluzione, ruota una società che potrebbe, in mancanza di soluzione alternativa, vedere i suoi libri contabili portati in tribunale. Intanto la Guardia di Finanza di Carini ha sequestrato beni per poco più di un milione di euro a un imprenditore indagato per evasione fiscale. Il provvedimento preventivo per equivalente è stato emesso dal GIP di Palermo su richiesta della Procura. Secondo l'accusa, nella dichiarazione del reddito, l'imprenditore avrebbe omesso di indicare ricavi per oltre 4 milioni di euro, realizzando così una notevole evasione d'imposta pari proprio a un milione di euro, ovvero il valore dei beni sequestrati. Oggi, tra questi, vale la pena sottolineare un conto corrente, 4 appartamenti. Riprendono le demolizioni degli edifici abusivi nella Valle dei Templi e al sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, arrivano minacce. Il primo cittadino ha denunciato di avere ricevuto, infatti, una busta col necrologio riguardante la morte di un ristoratore al quale era stato demolito l'immobile col ristorante perché abusivo. La solidarietà nei confronti di Firetto è arrivata dal mondo politico e anche dal presidente Lars Ardizzone che dice che non si può lavorare con questo clima, i sindaci sono sempre più esposti, ma sulla legalità non si può fare alcun passo indietro. Intanto, su questo episodio, le forze dell'ordine hanno già avviato le indagini. I carabinieri di Siracusa hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio un 29enne, si tratta di Armando Lauretta, disoccupato. Avrebbe infatti tentato di uccidere il rivale in amore, marito della donna con cui ha una relazione sentimentale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si è recato con un fucile a canne mozze nel ristorante dove la vittima lavora come cuoco. Il fucile però si è inceppato e tra i due è nata una colluttazione, il cuoco è riuscito a disarmare l'aggressore che alla fine è stato bloccato. Una donna siciliana di 27 anni, Joanna Boni, originaria di Ragusa, è morta questa mattina in un incidente a Malta, la giovane, da alcuni anni. Il residente nell'isola era alla guida di una moto quando si è scontrata con un camion a 14 chilometri dalla capitale, la Valletta. 32 anni fa la mafia uccideva a Catania una delle voci più libere e coraggiose del giornalismo siciliano, quella di Giuseppe Fava. Sentiamo Luigi Perolo. Tra un attimo vedremo. Due anni indubbiamente più povera, anche se la voce, gli scritti, le denunce, le prese di posizione del giornalista e scrittore Giuseppe Fava, ucciso la sera del 5 gennaio del 1984 davanti all'ingresso del teatro stabile di Catania, vengono portate avanti da diverse realtà, come l'evoluzione, spesso faticosa, del mensile da lui fondato e diretto ai siciliani, nato un anno prima, nell'83. Questo periodico, qui vedete alcune delle ultime copertine, era subito diventato una voce scomoda, fuori dal coro, conducendo inchieste scottanti su mafia, affari e politica. Fava, con un passato da documentarista d'inchiesta, scavava dentro le notizie, sino a pizzicare santuari intoccabili, potentati economici, quel livello grigio di condivenze indicibili che ha sempre contraddistinto gli intrecci tra mafia e interessi politico-affaristici. I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee, i mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia. Questa mattina il gruppo siciliano del Lunci ha ricordato Giuseppe Fava nel luogo dell'Aguato, la strada è da tempo intitolata al giornalista. Per l'uccisione di Fava è stata confermata la condanna all'ergastolo come mandanti dei boss Nitto Santa Paola e Aldo Ercolano, mentre Marcello Dagata, Francesco Giammuso e Vincenzo Santa Paola, condannati in primo grado come esecutori materiali, sono stati poi assolti definitivamente. Intanto anche il Presidente del Senato Pietro Grasso ha voluto ricordare Giuseppe Fava, citando uno dei pensieri del giornalista ucciso, a che serve essere vivi se non si ha il coraggio di lottare. Giuseppe Fava, ha detto Grasso, non è stato solo un grande giornalista, ma anche e soprattutto un grande veicolo di forza e dignità per la Sicilia e l'Italia intera, infatti stato maestro di tante persone. La polizia ha fermato sette uomini, quattro palermitani e tre trapanesi per una rapina messa a segno lunedì scorso e danni della banca di credito cooperativo Tognolo di Marsala. Gli agenti li hanno sorpresi in un appartamento di Petrosino, nel Trapanese, un'abitazione che rappresentava in qualche modo il loro quartier generale. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Bagheria e dai colleghi di Marsala. Gli attori pari dei Benassai, Antonio Pandolfo, domani saranno tra i protagonisti della Febbre del Calcio, condotta da Alessandro Amato a partire dalle 14.45 su TRM per raccontare Palermo-Fiorentine. Due attori saranno in scena da venerdì al Teatro Giolli con Due Uomini in Barca. Antonio Pandolfo proprio oggi è qui con noi in studio. Buongiorno. Buongiorno Luca Salerno. Buongiorno, Tre Uomini in Barca è il titolo di un celebre romanzo, Due Uomini in Barca lo vediamo invece il titolo del vostro spettacolo. Dove sta il legame? Ce ne manca uno, ci manca anche il cane perché in quel racconto c'era anche un cane in barca. Intanto i complimenti, ti saluta tanto mia zia che è una tua fan scatenata, ti segue sempre. E poi dato che lavori in televisione volevo chiederti come mai a casa mia ogni tanto DigiMed non si vede. Guarda, questo non lo devi chiedere a me ma in ogni caso c'è sempre il sito www.se ti perdi il TG lo puoi rivedere. Però se per te non è un fastidio io verrei ogni giorno a vedere il telegiornale qua. Volentieri, il posto è disponibile. Uno spettacolo molto divertente, siamo Due Uomini in Barca, io e Paride Benassai, in questa fantomatica battuta di pesca che si protrae per tutta la notte su questa barca che non si capisce bene se è stata prestata o altro, caro Luca. Quindi ci sono tanti dubbi da svelare, pieno di sorprese, pieno di tanto divertimento e poi col maestro Paride Benassai, voglio dire, andare in scena con Paride è un grande divertimento. Lui è un professionista molto serio ma quando ci divertiamo questo divertimento viene trasmesso immediatamente al pubblico. Come nasce questa coppia? Nasce con l'idea di poter lavorare assieme perché ci stimiamo a vicenda e quindi quando fu in sede di programmazione una data all'interno della programmazione del Teatro Giolli che ha una programmazione da alcuni anni degna e anche con nomi nazionali e quindi nel momento in cui ci fu la proposta di prenderci uno spazio all'interno del Teatro Giolli perché non farlo insieme. La proposta arriva da Paride che a quanto pare è sempre molto divertito dalle mie esibizioni e lui è un grande artista, non è anche un grande autore quindi anche scriverlo con lui, questo spettacolo è stato molto divertente. Poi in scena saremo noi due con tante sorprese perché sembra statica la scena in una barca in mezzo al mare e dice vabbè che può succedere e invece possono succedere decine di cose quindi grandi sorprese le scenografie poi sono curate dalla nostra bravissima scenografa al Teatro Giolli, da Roberta Madonia e da Vittorio Ienna e quindi con l'ausilio della direzione di Giovanni Nanfa che ha anche messo così una mano nel testo siamo riusciti a portare in scena da venerdì 8 gennaio uno spettacolo molto divertente e molto sorprendente. Ci puoi citare una di queste sorprese? Almeno una? Una di queste sorprese è che a un certo punto scoppia una tempesta e di questi due personaggi io sono quello un po' più codardo quello che si speventa, lui è Paride fa un personaggio molto sicuro di sé, sicuro in mare quindi all'interno di questa tempesta si svelano scenari che uno non si aspetta in mare, non vedi niente e poi riuscire a ricreare anche in teatro la barca che è sull'acqua quindi in teatro era anche una sfida scenografica poter fare questo una barca in mezzo al mare. Ricordiamo in chiusura fino a quando vi possiamo trovare? Fino al 24 gennaio, tutti i venerdì, sabato e domenica all'interno della programmazione del Teatro Giolli fino al 24 gennaio. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, veramente. Bravissimo Luca e domani tornerò a vedere il telegiornale. Ci aspettiamo. Grazie. Sicuramente prima della febbre del calcio dove tra gli altri ospiti di Alessandro Amato domani ci saranno le band Le Papole con Alessandro Torcivia e Calvi con Fabio Lannino le modelle dell'agenzia Vidaloga e quelle protagoniste del calendario Umilti curato da Luca Longo. E noi prima di chiudere vediamo insieme una notizia che arriva direttamente dal Lanzo una notizia dell'ultima ora perché a quanto pare la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo il tratto è quello tra Patti-San Piero e Gioiosa Marea è temporaneamente interrotta dopo che il regionale 38-34 con una ventina di passeggeri ha investito mortalmente una persona sono in corso, fa sapere l'anza, gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria per ricostruire la dinamica dell'accaduto. RFI ha intanto istituito un servizio sostitutivo con autobus. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria subito dopo però il Tgmed continua con l'appuntamento con il Tgmed Sport a cura come sempre di Luca Tutone Gianluca Rubino L'emozione di rindossare la maglia è un'emozione forte è una cosa che ho voluto che speravo succedesse ed è grazie al direttore così siamo riusciti a farlo e sono contentissimo di essere tornato qua e anche i primi giorni di gennaio. Ma gli stimoli di trovare la continuità che avevo trovato un anno e mezzo fa qua gli stimoli di un anno e mezzo non dico un po' buttati però comunque dove non sono riuscito a fare quello che avrei voluto per tanti motivi ho scelto di venire e ho voluto venire qua fortemente perché penso che che posso dare ancora tanto è chiaro io sono qua con umiltà e non so cosa non ho ancora parlato con il mister non lo conosco non so cosa insomma sono a disposizione se c'è bisogno insomma cercherò di fare il massimo per la squadra. Un inizio di 2016 in chiaroscuro per le siciliane di basket impegnate nei rispettivi campionati in Serie A maschile l'avvicendamento in panchina non sortisce risultati positivi per Capodorlando travolta a Pistoia nella gara d'esordio di coach Di Carlo 103-75 il finale non bastano i 18 punti di Oriachi a salvare i paladini che chiudono il girone d'andata da Cenerentola del campionato il giro di Boa deve rappresentare il momento per cambiare marcia e riprendere il cammino verso la salvezza non si ferma il ciclone agrigento in Serie A2 la fortitudo fatica ma sconfigge di misura omegna al termine di un 75-74 che permette a Chiarastella di esaltarsi con i 20 punti messi a referto per l'Epifania altro turno interno contro Biella per mantenere il primato si riscatta immediatamente Trapani dopo il KO proprio contro la Moncada aggiudicandosi l'altro derby contro Barcellona messa al tappeto a domicilio in virtù del 70-91 al suono della sirena per i Granata ora testo verità contro Megna il roster di Bartocci dovrà invece dare segnali di vitalità contro Agropoli impresa ardua ma l'ultimo posto non permette di fare calcoli si apre con il sorriso il nuovo anno dell'Aquila Palermo in Serie B i Biancorossi si impongono contro Cassino al Palamangano termina 89-70 e ora attendono Scafati torna in campo in Serie C il Green Basket palermitani tra le muramiche contro Milazzo in A1 femminile chiude nel migliore dei modi il girone d'andata alla Virtus Serena Ragusa battendo in casa con un perentorio 70-49 Venezia alle Biancoverdi il platonico titolo di campionesse d'inverno in A2 infine Maddalena Vision Palermo attesa ad Arian Irpino per TG Medsport Gianluca Rubino queste beneverenze sono un segnale importante per dire che lo sport è vivo a prescindere da tutte le difficoltà se lo dice anche il segretario generale del CONIC e da Credits io dico che le beneverenze sono un fatto che dà soddisfazione a chi le riceve soprattutto ma è un segno tangibile di riconoscenza abbiamo atleti che fanno grandi cose secondo il regolamento delle beneverenze prendono i vari tipi di beneverenze ma quello che più mi preme dire è il riconoscimento che diamo alle società sportive che diamo ai dirigenti che molto spesso sono assolutamente volontari che diamo ai tecnici è il substrato dello sport italiano le palafitte su cui si posa tutta la nostra impalcatura per cui è un momento particolarmente importante per il mondo dello sport che le consegna è una cosa bella che ogni anno si ripete e noi speriamo sempre che questa cosa abbia sempre più valore e abbia sempre più risultato corrispondenza presso le varie regioni italiane perché lo diamo a livello regionale tolti i grandi meriti sportivi di chi vince le Olimpiadi che diamo a livello centrale nella città di Roma ma per il resto noi vogliamo che sia sul territorio dove si esprime riconoscimento a questi personaggi che fanno grande il nostro sport a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti.